eccoci all'approfondimento settimanale qui con Radio Radicale e la Fondazione Cerma siamo alla Matassa dove tipicamente proviamo a sciogliere nodi complessi e affrontare temi più ampi ma anche più specifici da un certo punto di vista questa settimana parliamo di informazione di libertà di informazione e un confronto occidentale o meglio oriente occidente come siamo messi qual è lo stato di salute dell'informazione e del giornalismo in qualche modo anche nel mondo ci sono moltissimi ospiti graditi quest'oggi ognuno con la propria expertise do il benvenuto all'esempio Udo Gumpel giornalista tedesco di RTL bentornato salve buonasera grazie a Roberta Carlini giornalista e ricercatrice per il Center for Media Pluralism and Freedom della European University Institute grazie per essere con noi ben trovato a Francesco Radicioni giornalista esperto di Alia per Radio Radicale ben trovato buonasera buonasera a te Valeria buonasera a chi ci ascolta c'è con noi anche Matteo Angeli che è segretario del Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella che si è occupato per molto tempo e si occupa ancora del concetto molto caro a Marco Pannella del diritto alla conoscenza che in qualche modo ha anche a che fare con il diritto a una buona informazione una giusta informazione bentrovato ciao Valeria e bentrovati a Fabio Pammogli economista professore e direttore del Comitato Scientifico della Fondazione CERM ben trovato buongiorno c'è con noi Giorgio Alfaras economista Fondazione CERM centro in Audi buonasera e c'è qui con noi appena arrivato Antonio Nicita senatore del Partito Democratico che a lungo è stato commissario alla Gcom quindi questo ci aiuta anche a parlare di una serie di temi anche un po' complessi che hanno a che fare con l'informazione e le influenze della politica ben trovato anzi bentornato insomma qui tra Bandolo e Matassa e Radio Radicale abbastanza di casa ormai grazie grazie a voi e allora forse partirei proprio da Nicita se è d'accordo perché quando parliamo di informazione soprattutto di libertà di informazione e di corretta informazione partiamo dall'Italia forse è la cosa anche un po' più semplice in generale in Occidente si parla spesso dell'intreccio che c'è tra due macro temi da una parte la politica e l'influenza che la politica ha sull'informazione soprattutto sull'informazione pubblica in qualche modo tutto questo viene legato anche ai processi di spoil system che avvengono ovviamente a ogni cambio di governo lo stiamo tra l'altro vedendo anche in queste ore con le nomine con i mal di pancia insomma le solite tarantelle dall'altro anche a che fare questo a livello diciamo e su questo tutto il mondo e paese eh con gli i monopoli o gli oligopoli che muovono eh grandi eh quantità di informazioni e le grandi grandi network di informazione questo vale negli Stati Uniti vale in Europa vale anche per altre vicende poi lo capiremo in paesi come la Russia come la Cina ma poi ci arriviamo intanto diciamo come sta la nostra informazione anche dal oggi che diciamo ti occupi ancora più da vicino di politica ehm dopo che appunto hai visto da vicino insomma eh una una autorità che in qualche modo ha a che fare con questi meccanismi deve fare da osservatorio deve eh eh monitorare e e sanzionare sì grazie allora è una domanda molto complessa quindi io ce sarò invece molto breve adesso si chiamano eh ecco matassa e tra l'altro da ieri si è costituita la commissione finalmente di vigilanza Rai o ne faccio parte anche lì? Esatto lo volevo dire in corsa ma e e quindi per me sarà interessante vedere un po' che cosa succede lì in breve ehm noi abbiamo in teoria costruito tutto una regolamentazione dei media tradizionali quindi soprattutto radio e tv che sono diciamo in tutti i paesi oxe eh diciamo dei soggetti regolati eh per quello che riguarda soprattutto la parte di accesso eh dei soggetti politici ma hanno anche delle forme di regolamentazione più o meno blande del pluralismo e in teoria abbiamo costruito tutto questo pluralismo queste regole sulla base di un'idea di concorrenza di mercato cioè ehm l'idea che più concorrenza c'è dal lato dell'offerta maggiore il pluralismo tutto tutto l'approccio diciamo almeno anche negli Stati Uniti dagli anni 80 in poi e anche da noi si è basato molto su questo quindi la libertà di scelta dell'utente e eh una grande pluralità di offerta eh informativa ehm nel tempo nella complessità soprattutto anche nella complessità che deriva eh dal digitale da una parte ma anche dall'influenza a politica di vario a vario tipo sui mezzi tradizionali abbiamo scoperto che non sempre è così che c'è molta eh isteresi dal punto di vista della domanda che la domanda non è sempre diretta all'informazione di qualità che l'informazione cattiva caccia quella buona ehm e eh spesso questi discorsi vanno a finire giustamente sul tema delle strategie di disinformazione sul web eh ma dobbiamo ricordare che eh molte di queste strategie di disinformazione che viaggiano sul web sono poi replicate imitate eh rafforzate anche sui media tradizionali questo per non parlare dell'Italia l'abbiamo visto negli Stati Uniti l'abbiamo visto con Tucker eh Carlson su 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 Fox e recentemente sono venuti fuori alcuni diciamo messaggi riservati che dicevano questo cioè dobbiamo spingere sulla disinformazione pro Trump visto che questo è uno dei temi di questi giorni anche se sappiamo che non è vero ma in generale emerge che i mezzi tradizionali sono anche essi fonti di disinformazione quindi la novità rispetto al passato quando noi parliamo oggi di qualità dell'informazione è capire anche quanto le strategie di disinformazione hanno successo sia sui media tradizionali che sul web in Italia noi siamo messi secondo me mia personale opinione male non tanto dal punto di vista della pluralità dell'offerta di informazione ma mia personale eh opinione dal fatto che abbiamo un confronto eh politico che avviene su reti pubbliche su reti private eh attraverso questi talk show che sono molto più show che talk e attraverso una certa stampa che se voi vedete le prime pagine a volte di una certa stampa diciamo di di colore politico non si capisce se stiamo parlando di satira o se stiamo parlando di informazione è quella che gli americani chiamano opinionated eh press o opinionated tv eh che va benissimo se ci rendiamo conto che siamo in un campo di opinioni eh purtroppo sempre più spesso l'opinione arriva al punto da cancellare completamente quella famosa distinzione che faceva Anna Arendt tra i fatti appunto e le opinioni ehm c'è una forte connotazione polarizzazione politica e questo poi è una conseguenza sulle policy perché se non riusciamo ad avere un campo neutro nel quale riconosciamo i fatti nel quale riconosciamo le analisi nel quale riconosciamo i dati non riusciamo poi a disegnare delle politiche basate sulla sulla evidenza e quindi non riusciamo poi a trasformare tutto questo in quello a cui dovrebbe servire il naturalismo cioè un confronto politico nella sfera pubblica con un danno per la vitalità della nostra democrazia. Ecco però quando parliamo di pluralismo eh parliamo di un'offerta informativa che in qualche modo qualcuno soprattutto qui su Radio Radicale avrebbe comunque definito una spartizione partitocratica no? Eh in Italia questo nelle reti pubbliche si sa che insomma è sempre stato così. Eh ecco da questo punto di vista noi siamo messi meglio o peggio secondo te di altri paesi e meglio o peggio in termini di monopoli oligopoli ehm di grandi gruppi editoriali. Dunque sulla parte anni una grande trasformazione anche da questo punto di vista cioè ci sono sempre più mh appunto ci sono sempre state diciamo più 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 eh corporazioni da questo punto di vista che hanno acquistato grandi gruppi editoriali che hanno acquistato giornali, reti televisive, eh canali web no? Eh sì. Allora guarda dal punto di vista della della parte pubblica eh cioè del servizio pubblico eh siamo messi peggio di altri ma diciamo è una storia che conosciamo è una responsabilità di tutti i partiti eh perché alla fine tutti raccontiamo della non tanto della eh indipendenza ma dell'autonomia anche eh del servizio pubblico radio televisivo che tra l'altro è tornato in auge nel senso che è molto importante averlo in un mondo complesso e attraversato dalla disinformazione ma non riusciamo a dare una governance autenticamente separata su un modello come sempre citiamo che è quello no della BBC eh abbiamo diverse proposte di legge io stesso ho ridepositato una che era stata depositata eh nella legislatura scorsa per cercare di avere una governance oggettivamente staccata dai partiti perché è giusto avere anche la vigilanza una commissione parlamentare però è anche giusto come dire spostare il tema dal controllo della qualità in qualche modo dai suggerimenti di qualità a quella che invece un'invasione di campo che tutti conosciamo insomma abbastanza feroce dal punto di vista proprio organizzativo per cui come dici tu eh poi c'è uno spoil system che in qualche modo è legato ai governi ecco questo secondo me è quanto di più sbagliato ci possa essere d'altra parte però ehm noi abbiamo comunque eh per quanto abbiamo una grande offerta abbiamo fatto la rivoluzione digitale terrestre e così via nonostante questo cioè nonostante sia aumentata l'offerta e l'accesso alle alle frequenze radio televisive abbiamo comunque un polo molto forte che è quello diciamo del gruppo eh Mediaset che poi adesso si è eh come dire ristrutturato nel senso che le tv in chiaro quelle sono nel senso anche come audience ma soprattutto come raccolta pubblicitaria i i privati che si sono affiancati sono sempre pochi quindi se ci riferiamo soltanto alla vecchia tv non c'è tutto questo pluralismo eh ce n'è un po' di più in altri paesi così come misurato ma soprattutto noi abbiamo qui un tema che oggettivamente e facilmente dai sociologi non lo dico io riconoscibile come orientamento eh politico editoriale quindi se noi ci basiamo su questo come qualità dell'informazione non andiamo molto lontano c'è una novità e concludo che anche questa va ehm fatta oggetto di riflessione questa concentrazione a cui per fare riferimento purtroppo si estende anche ad una unità tra radio e tv che sta da una parte ehm comporta economie di scala eh no grandi gruppi editoriali però effettivamente ha fatto sì che anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria chi è forte nell'offerta televisiva tende anche ad essere forti a unirsi nell'offerta radiofonica questo comunque è un tema che raccoglie pubblicità chiude spazi di diversità e riduce risorse anche lì per una nuova e maggiore concorrenza sotto il profilo della qualità dell'informazione e grazie Antonio Nicita, Senato Nicita. Cerchiamo di andare avanti perché ovviamente nel nostro ragionamento eh diciamo il tema della comparazione no del dell'approccio comparativo comparato rispetto alle situazioni italiane ai media occidentali ai media europei eh ci ci interessa e da questo punto di vista volevo sentire il giornalista Udo Gumpel che viene che conosce benissimo l'Italia conosce benissimo l'Europa ma conosce ancora meglio ovviamente anche la Germania volevo chiedere la sua impressione sullo stato dell'informazione libera ovviamente equa giusta e qualitativamente diciamo eh positiva eh quali sono le sue impressioni rispetto alla situazione italiana e ovviamente anche all'esperienza tedesca che cosa ne pensa? Eh sì cosa ne penso? Io penso che in Italia ci siano tanti bravi giornalisti che in condizioni davvero difficili riescono ancora a fare buon giornalismo e pronto? Allora io da diversi anni sono anche fondatore di un premio italiano che premia giovani giornalisti eh con i mezzi sia televisivi ma anche audiovisivi eh preme Roberto Morione io sono fondatore un giurato che noi premiamo giovani giornalisti che fanno lavori investigativi e questo è molto importante molti lavori di questi colleghi hanno anche avuto eh riconoscimenti e sono stati anche ripresi poi da altri servizi e questo in un contesto molto difficile e una delle cose che che mi fa e dovrebbe in realtà far sorridere ogni giornalista perché è una contraddizione in termini è la commissione di vigilanza dei politici sui giornalisti perché il compito di noi giornalisti è proprio fare la sorveglianza sui politici che loro sorvegliano il servizio pubblico è una contraddizione in termini ed è posso dire a me sembra una eredità del ventennio perché molti altri paesi tra i quali la Germania che ha avuto un sistema molto simile e ha abolito completamente eh questi sistemi e e peraltro ha abolito scusate sì adesso vedo qui c'è un video che si è bloccato no sentiamo perfettamente allora allora l'esempio per esempio della Germania del controllo ferreo del partito nazista sulla comunicazione perché chiaro loro sapevano benissimo dell'importanza della comunicazione di tenere sotto controllo le idee e allora naturalmente anche Germania poteva solo accedere al giornalismo chi era molto vicino al partito o era iscritto ed è chiaro che poi gli inglesi che hanno riformato il sistema nel dopoguerra in Germania hanno cancellato ogni licenza editoriale che era preesistenza ogni licenza editoriale non c'era nessun editore che poteva mostrare continuità hanno cancellato ogni diritto ad un giornalista sotto eh nel periodo nazista dunque chi aveva esercitato attività di giornalismo sotto Hitler non poteva più farlo dopo loro hanno formato un sistema che io direi che è quasi unico che come avevano detto che peraltro era scusate che c'è una polvere qua in giro e il fratello di Graham Green era il primo direttore della radio televisione pubblica tedesca perché gli inglesi non si fidavano mica dei tedeschi e allora hanno introdotto delle regole ferre che impediscono e questo nonostante che i politici di tutto il mondo tentano naturalmente di inserirsi nei servizi impedisce in una maniera molto buona di comandare nelle reti pubbliche televisive che ancora oggi in Germania fanno circa il 50 per cento dell'ascolto per per un sistema di parlamentini per un sistema si chiama proprio parlamento pubblico dove i politici nel suo insieme non hanno mai la maggioranza di governance nella nella televisione dunque abbiamo regioni come la Baviera storicamente in mano a eh politicamente governato dai democristiani sociali che però nella loro tra virgolette televisione regionale non riescono a comandare perché è un sistema di partecipazione di associazioni pubbliche che mandano poi per sei anni e legano direttori i parlamentini politici hanno quattro anni già c'è un overlap che impedisce io direi al 90 per cento forse ancora 85 per cento e la intromissione del politico nelle decisioni redazionali perciò non c'è nessun spoil system quando cambia il governo sia a livello regionale o a nazionale in televisione cambia nulla dal punto di vista del della governance delle persone che di quindi diciamo il sistema tedesco e noi quando io parlo in televisione del sistema della radio televisione della RAI non dico che è una televisione pubblica una televisione di stato perché è una televisione di stato molto meno naturalmente grave di altre televisioni di stato russia cina altri però non è un vero sistema pubblico perché viene governato come sappiamo tutti dobbiamo nasconderci dietro il dito la maggioranza decide chi sono i direttori e da lì c'è anche una specie di ubbidienza anticipatoria di chi vuole fare carriera e non finire in RAI nel cimiterio dei dinosauri dove degli elefanti dove mandano direttori della precedente gestione che mantengono lo stipendio mantengono una stanza però non comandano più niente e questo è un sistema prima prima seconda terza rete sappiamo anche come fu creata la terza rete il sistema tedesco o ce ne sono altri in europa o altrove sai in spagna in spagna benchmark diciamo su questo positiva allora io so che la bbc per storia ha una tradizione molto indipendente però anche lì governo può inserirsi molto più direttamente il sistema spagnolo è un misto tra quello tedesco e quello quello britannico giusto fatto anche lì dopo l'esperienza del franchismo volevano liberare i giornalisti dalla mano pesante della politica in italia abbiamo un sistema che è questo sistema di televisione statale e poi abbiamo anche il problema che tutta la televisione privata in realtà è silvio belosconi e dal 94 lui stesso è politico dunque abbiamo avuto tanti anni in italia dove e poi scusate io c'ero nel 94 quando c'è il sistema oligopolio non è un oligopolio è praticamente un monopolio con qualche satellite perché è chiaro che la televisione privata in mano a silvio belosconi mediaset fa insieme alla rai il 90 all 85 per cento del cer delle come sappiamo e della raccolta pubblicitaria e quello che è la 7 è un piccolo satellite fondato peraltro da un ex collaboratore di silvio belosconi non so non vedo una grossa differenza dunque per me non c'è da come organizzata la televisione italiana ovvero pluralismo se per me c'è una televisione di stato con accanto un fortissimo gruppo privato e per fortuna all'interno di questi gruppi ci sono ancora molti giornalisti con gli attributi e giornaliste che riescono a fare buon giornalismo però è molte volte legato alla singola persona non al agli spazi che la rete garantisce e la situazione per me abbastanza grave nel panorama europeo ci torniamo io intanto approfitto del fatto che c'è roberta carlini che si è di nuovo connessa con noi per sapere appunto dal suo osservatorio come ce la caviamo noi come se la cavano altri e quali sono i benchmark o i problemi in questo mondo molto interconnessa molto dipendente ovviamente dell'informazione sia pubblica che privata ecco dall'osservatorio eh del centro appunto eh cui fa ricerca center for media eh pluralism and media freedom della dell'università europea dell'istituto eh appunto europeo eh che cosa che cosa ne pensa che cosa qual è il suo punto di vista? Il il caso italiano è sempre il caso di un osservato speciale per l'anomalia l'abnorme anomalia di di cui avete abbiamo parlato finora che è nato nella televisione ma da allora è eh cambiato il mondo eh nel senso che l'informazione eh siamo immersi nell'informazione in un'informazione abbondante e eh che apparentemente non ha più bisogno della eh intermediazione della grande televisione in realtà la 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 grande speranza aperta dal digitale e dalla dalla società dell'informazione digitale eh è stata come dire si è tramutata nel suo contrario da un po' di tempo però cosa è successo in paesi storicamente a rischio di pluralismo dell'informazione come l'Italia che eh altri rischi si sono aggiunti cioè non abbiamo avuto per esempio un proliferare di eh nativi digitali ce ne sono alcuni vivaci belli eh ben fatti ma non abbiamo avuto una vera capacità di presa sull'opinione pubblica ma anzi si è innestato un circuito eh di eh mala informazione o disinformazione che eh va dai media tradizionali a quelli a internet e poi ritorna quelli tradizionali a cui un po' accennava eh Antonio Nicita quindi eh il digitale da un lato non ci ha aperto non ci ha liberato dal duopolio o monopolio eh dall'altro eh abbiamo eh dei eh una sparizione progressiva sparizione dei giornali cioè ricordiamoci che il modello di business dei giornali è entrato in in crisi ovunque eh ancora di più eh in Italia dove la 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 capacità di investimento dei nostri eh editori è arrivata molto in ritardo e se è arrivata abbiamo avuto di recente che il gruppo Gedi si è liberato della sua eh parte digitale cioè eh non non pare investire su questo la venduta semplicemente quindi cioè della la il dipartimento che cura l'innovazione quindi poca innovazione del prodotto della qualità eh crisi dei giornali che comunque avevano un ambiente un po' più pluralista di quello eh televisivo e non corrispondente ascesa della eh contrattacco digitale che eh anzi le risorse in Italia come ovunque della pubblicità eh vengono prese dalle piattaforme quindi mettendo ancora in più in crisi eh però volevo citare un altro dato che secondo me è importante del confronto italiano con gli altri paesi ed è quello che noi abbiamo anche un altro indicatore eh in cui siamo molto deboli che è la media literacy la la l'alfabetizzazione ai media eh in genere l'alfabetizzazione e quindi una debolezza della domanda da questo punto di vista per parlare in termini economici nel senso che se eh mediamente siamo meno in grado di dal numero di laureati dalla non solo i laureati abbiamo proprio un livello molto basso di competenze di letterato di capire un testo e poi di competenze digitali quindi il modo in cui usiamo internet e quindi l'approccia il problema mh è naturalmente della struttura dell'offerta eh e non abbiamo mai avuto abbiamo avuto il duopolio nella televisione e come dicevo non una conforrenza nell'offerta anzi la concentrazione va insomma tutta sta poesia e letteratura non la vedo messa benissimo cioè non andiamo bene nelle stemme non andiamo bene neanche nella comprensione del testo diciamo ci resta poco non ci resta no purtroppo purtroppo abbiamo anche un basso livello di programmi nella scuola da questo punto di vista non basta fare queste iniziative come quotidiano in classe no è è è anche un po' un'altra eh un'altra cosa quindi eh come dire però prima di di passare di proseguire il giro perché insomma gli ospiti sono molti ehm abbiamo parlato dell'Italia però allargando lo sguardo visto che andremo ad allargare lo sguardo nella seconda parte di 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 questa rubrica mh ci sono altri modelli positivi e negativi che vuoi segnalare visto che fai parte di uno sorrebatore importante ma diciamo che la ci sono modelli che che vengono fuori come più eh aperti al pluralismo eh sono quelli eh dei paesi del dell'Europa occidentale del nord eh l'Italia appartiene più al gruppo del sud però questo fa parte anche di una struttura storica non è solo da imputare agli ultimi anni siamo arrivati in ritardo all'alfabetizzazione tutta una serie di problemi però la tendenza alla concentrazione nel mercato dei media è dovuta anche a una dinamica economica è comune tant'è che eh la proposta di legge che è stata di recente presentata dalla Commissione europea che per la prima volta interviene con una legge europea sui media che sono tradizionalmente una competenza nazionale ehm introduce una novità che non sappiamo se avrà efficacia però ci segnala che c'è un problema cioè quello di fare una specie di test del media del pluralismo ogni volta che eh si va a alla una concentrazione economica che coinvolge un mezzo di informazione quindi il problema sono i media pubblici asserviti alla politica ma anche questi conglomerati privati che molto spesso come nel caso italiano sono non asserviti alla politica ma agenti politici eh diretti ma è una tendenza in questo caso possiamo dire che non è solo italiana ecco grazie Roberta Carmini grazie professoressa Carmini Fabio Pammarini voleva dire qualcosa immagino più sulla situazione italiana poi insomma è stato tirato fuori il modello tedesco il modello BBC insomma non so su questo se volevi dire qualcosa tu che hai anche viaggiato molto e sei stato molto spesso volevo no volevo solo dire che le considerazioni di Udo Kumpel sono molto importanti e richiamano come del resto aveva fatto anche Antonio ma come ha fatto anche la collega Carlini delle delle considerazioni rispetto alla regolazione e alla definizione di equilibri tra potere politico e stampa e io però voglio anche evidenziare il fatto che noi in questo momento ma è già così da almeno dieci anni abbiamo anche fortissime interferenze da parte di stati sovrani che hanno imparato a usare la disinformazione e i canali di amplificazione della disinformazione ai quali faceva riferimento anche 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 la collega questo è un tema tra l'altro aggiungo Pammoli su questo nell'ultimo anno abbiamo visto cose piuttosto bizzarre accadere anche a nuovi o vecchi o recenti quotidiani online e non solo anche titoli azionari crollare io non dico altro però di tutto concomitante per esempio con la guerra con l'invasione russa in Ucraina questo diciamo noi lo sapevamo prima dell'invasione russa in Ucraina che i russi avevano avuto grandi noi abbiamo vari elementi che ci hanno indotto a pensare sin dal 2013 2015 che le interferenze rispetto alle campagne elettorali rispetto alla diffusione di informazioni che si spostavano in quel caso dai social in particolare in quel momento era Facebook che era il luogo delle scorribande e dei meccanismi di amplificazione delle notizie prive di fondamento però anche poi con dei ritorni che vanno sui media tradizionali e questo è un fenomeno che per certi versi possiamo pensare che si riassorba nel tempo perché comunque gli utilizzatori in qualche modo introducono dei filtri ma siccome qui siamo non dico al teorema di incompletezza di Tarsky ma siamo comunque in grave difficoltà nel determinare lo status di verità di proposizioni o di articoli dei giornali quindi è un tema molto importante e su questo tema credo che ancora molto dobbiamo scoprire ancora molto dobbiamo fare perché purtroppo noi sappiamo di essere in uno stato di guerra e anche prima dell'invasione dell'attacco russo in Ucraina le interferenze dell'FSB e delle linee di intervento sulla propaganda di alcuni movimenti e partiti non solo in Italia sono state significative quindi volevo aggiungere solo questo elemento Grazie, grazie Fabio Pammogli e arrivo a Matteo Angeli perché insomma qui parliamo su Radio Radicale parliamo di Matasse parliamo di un campione da questo punto di vista come Marco Pannella che da sempre si è occupato prima di pluralismo delle informazioni poi con il centro d'ascolto della presenza qualitativa e quantitativa dei vari partiti politici nelle tv pubbliche e private aveva Marco Pannella e anche molti parlamentari radicali una attenzione maniacale a questi aspetti che poi sono i meccanismi fondamentali del funzionamento del consenso della politica e delle istituzioni perché sono in grado ovviamente l'informazione è in grado di orientare le scelte le scelte degli elettori e delle elettrici poi non ultimo una delle sue più grandi battaglie negli ultimi anni è stato quello sul diritto della conoscenza tema che Matteo Angeli ha seguito da molto vicino che continua a seguire Matteo, rispetto alla discussione che hai sentito finora ovviamente anche dal tuo punto di vista dal tuo osservatorio e dalla tua esperienza Sì, buonasera a tutti guarda, il tema del diritto alla conoscenza è un tentativo di sintetizzare la battaglia per l'informazione democratica essenzialmente che in Italia negli ultimi anni ha fallito intanto con il buco nell'acqua provocato dai 5 stelle e dal loro mancato via i partiti dalla RAI e che si è aggravato poi con un pluralismo come si dice dell'informazione che in realtà è un recinto dell'informazione alla quale partecipano i principali partiti presenti in Parlamento che come vediamo sono sempre meno non solo per il taglio sempre a firma 5 stelle quindi io sono contento che abbia partecipato a questa trasmissione il neocommissario della Commissione Vigilanza RAI in Iscita perché sicuramente sarà una risorsa in questo credo, non nel fare a questo punto riforme sbaglierare riforme o proposte di riforme inarrivabili improponibili ma almeno a tentare di far conoscere sempre di più in cosa consiste la governance del sistema informativo in Italia e a questo serve l'osservatorio il centro d'ascolto per il quale non abbiamo mai dismesso di batterci dopo il primo successo quello grazie a Roberto Rampi al Consiglio d'Europa l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e un secondo nella Commissione straordinaria sui diritti umani del Senato lo scorso giugno cioè due emozioni che riconoscono formalmente a livello di indirizzo politico il diritto alla conoscenza abbiamo avuto ne parlava poco fa la professoressa il terzo riscontro il terzo riconoscimento proprio nella Commissione delle politiche europee del Senato con una risoluzione a prima firma Giulio Terzi che riprende il diritto alla conoscenza e per la prima volta viene abbinato il discorso economico il discorso del mercato dei media ai diritti fondamentali quindi c'è un nuovo anello di congiunzione che dà ulteriore sostegno ulteriore ragionevolezza a questa iniziativa c'è un pezzo in particolare che ci tengo a leggere brevemente di questa risoluzione del primo febbraio scorso che dice il perseguimento dell'obiettivo del mercato interno va di pari passo con la tutela di alcuni diritti fondamentali la digitalizzazione e il carattere transnazionale dei media rendono inevitabile urgente e quanto mai indispensabile intervenire a livello di unione anche per garantire quel diritto dei cittadini alla conoscenza riconosciuto dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa come un diritto civile e politico a essere informati attivamente su tutti gli aspetti e tutte le fasi dei processi di formazione delle decisioni politiche amministrative e normative e come uno strumento indispensabile a esercitare una piena partecipazione democratica ecco questo è il percorso che prosegue prosegue per avere una un controllo e una comprensione maggiore anche da parte di noi cittadini di quello che è la governance appunto degli strumenti di informazione ai quali ripeto partecipano sempre un numero più ristretto di attori quindi ci sarebbero tante altre cose da aggiungere rispetto alle interferenze straniere rispetto al fatto che la televisione volente o nolente che esiste l'informazione televisiva volente o nolente soprattutto quella di stato ha un valore normativo e questo valore normativo non sarà mai soppiantato dai social o da altri strumenti di informazione anzi viene potenziato e laddove non c'è questa presenza dello stato io direi ma non dello stato etico dello stato democratico come negli Stati Uniti vediamo che si producono degli effetti che essendo legati agli introiti pubblicitari prevalenti producono delle dinamiche come quella un minuto ancora Valeria chiudo di Alex Jones Alex Jones era un cospirazionista americano che ha fatto miliardi milioni di milioni di dollari sulla tragedia su una delle tragedie che hanno colpito le scuole americane con le carneficine fatte da degli squilibrati nel Connecticut dieci anni fa furono uccisi oltre 20 bambini e questo signore nella sua radio che poi è divenuta anche una televisione privata ha iniziato a spargere teorie cospirazioniste dicendo che era tutta una montatura del governo questa cosa piano piano negli anni ha raggiunto cifre di ascoltatori e di appunto introduttori pubblicitari enormi di fatto questo signore è riuscito a convincere a spostare anche l'elettorato a favore di Trump nel momento in cui alcuni genitori si sono dovuti recare in tribunale c'è stata una madre per denunciare questo cospirazionista una testimonianza di una madre è successo un anno fa questo che ha detto io esisto io sono una persona che esiste perché a forza di perpetuare la menzogna che quella carneficina in fondo era uno spettacolo organizzato con i tecniche hollywoodiane milioni e milioni di persone hanno messo in dubbio che quella carneficina fosse mai esistente una enorme fake news esatto esatto questo signore è stato condannato a pagare un miliardo di dollari di multa che cosa ha fatto dopo essere uscito dal tribunale è tornato alla sua radio perché non gli è stata chiusa e ha ricominciato a dire che è una sconfitta ma la battaglia alla guerra non è finita quindi là dove c'è un sistema informativo pubblico debole queste sono dinamiche che possono prodursi e non ho parlato delle interferenze chiaramente russi o cinesi che sono ancora peggio hanno portato probabilmente a Trump contro Hillary Rodham Clinton poi abbiamo visto quello che è successo a Capitol Hill insomma grazie Matteo Angeli intanto io volevo arrivare agli ultimi due ma non meno importanti ospiti di questa serata Francesco Radicioni e Giorgio Alparas Giorgio che mi aiuterà poi a tirare i fili della matazza e capire anche un po' il percorso che abbiamo fatto oltre che aggiungere ovviamente del suo del proprio e volevo chiedere invece a Francesco Radicioni che conosce non solo il sistema ovviamente informativo italiano ma ovviamente ha imparato a conoscere i limiti le censure e le problematiche di quello asiatico in particolare di quello cinese ma devo dire poco fa parlavamo in un'altra rubrica che si chiama Asiatica di India anche le grandi democrazie da miliardi di persone hanno i loro problemi per esempio le censure su internet le censure di penso di documentali della BBC scomodi per un primo ministro come era Andrea Modi diciamo da questo punto di vista ognuno ha i propri problemi è chiaro che se guardiamo a Pechino o a Mosca le problematiche di cui noi parliamo sembrano bazzecole perché lì abbiamo una sorta di pensiero unico e c'è un filtro enorme enorme su tutto oltre che la censura Francesco ma sì tu calcola che nel 2016 il leader della Repubblica Popolare Xi Jinping visitò le redazioni di tre media di Stato e disse che appunto i media cinesi dovevano fare di cognome partito questo significava appunto la totale fedeltà praticamente una totale fedeltà di stampo familiare per l'appunto nei confronti del del partito comunista cinese lì il rapporto è completamente appunto di diciamo così totalmente intrecciato soprattutto per quanto riguarda i media i media istituzionali insomma penso alla CCTV penso alla Sienkua penso al quotidiano del popolo devo dire che negli ultimi anni tutto questo sta coinvolgendo sempre di più anche i cosiddetti media commerciali che erano usciti e si erano trovati un loro spazio molto importante molto interessante a partire dalle riforme economiche di di Deng Xiaoping alla fine degli anni degli anni settanta poi tutto in tutti gli anni ottanta sbocciati in modo molto importante a cavallo tra gli anni novanta e gli anni e gli anni zero appunto del nuovo millennio per poi una decadenza molto importante di cui devo dire poi negli ultimi anni sono stato testimone diretto cioè appunto a cavallo tra la presidenza Hu Jintao e la presidenza Xi Jinping la questione è stata completamente i giornalisti banalmente ecco per esempio esattamente ma tu calcola nel 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 capodanno del duemila e dodici viene censurato il l'editoriale di capodanno di un giornale coraggioso come di di Guangzhou come era il Nanfangio Muo e Xi Jinping non era ancora diventato presidente era appena diventato segretario del partito e stava per diventare e stava per diventare presidente cioè proprio un taglio eh abbastanza netto c'è stato in quel periodo insieme a tutto un rafforzamento ideologico eh della Cina che noi appunto ad Asiatica come ricordavi raccontiamo eh raccontiamo spesso un primato della eh della politica sull'economia e su questo i giornali cinesi che erano e i giornali gli stessi giornalisti cinesi che nel corso degli anni erano diventati interessanti trovavano dei canali ehm e per far passare anche delle inchieste delle inchieste giornalistiche che non arrivavano mai al vertice del potere ma andavano a toccare alcuni potentati economici alcuni potentati eh della politica locale eh che hanno fatto alcune denunce piuttosto interessanti ecco negli ultimi anni ormai la stampa cinese è sempre più paludata è sempre meno interessante ehm altre due cose Valeria se abbiamo ancora un minuto eh e cioè per sia per quanto riguarda il tema delle operazioni di influenza che mi pare molto molto interessante si parla spessissimo qui ehm per ovvi motivi eh delle operazioni di influenza eh russe si parla meno rispetto a quelle cinesi tra l'altro esiste una collaborazione che pochi si sono filati eh presieduta dalla portavoce del ministero degli esteri di Mosca e dalla portavoce del ministero degli esteri eh Maria Zakarova e dalla portavoce del ministero degli esteri di Pechino eh Quachu Ying che hanno eh che hanno appunto eh deciso di rafforzare nella cooperazione tra Pechino e Mosca anche in qualche modo diciamo così le combatte stando alle loro parole il combattere le fake news occidentali ok insieme alla contro le rivoluzioni colorate eccetera eccetera e le operazioni di potenza di influenza di Pechino hanno diversi canali da un lato c'è la pubblicità dal lato c'è la fornitura di servizi ai media ehm ai media tradizionali soprattutto in diversi paesi che esce direttamente diciamo così il servizio di copertura offerto dalla eh dalla Sienhua eh operazioni molto forti che corrono rivolte alle comunità cinesi all'estero anche lì per noi questo tema è poco sentito visto che la comunità cinese in Italia è ancora limitata non vota eccetera ma pensiamo casi come per esempio l'Australia dove invece le operazioni cioè dove la comunità etnica cinese è molto forte o altri paesi come quelli di cui vivo nel sud-est asiatico dove appunto ci sono delle comunità molto forti che spesso leggono la stampa eh in cinese locale rivolte a loro e ci sono alcuni studi molto interessanti per esempio sul racconto delle proteste di Hong Kong in Malaysia rivolte alla comunità etnica cinese della Malaysia che è gigantesca ehm che appunto ha usato appunto i toni i toni di Pechino ehm il terzo punto quello rivolto in generale a noi che usa tra l'altro e lì c'è tutta una questione anche piuttosto singolare che usa quei social che in Cina sono censurati per per far passare il loro messaggio cioè eh stanno proliferando influencer dai tratti occidentali ok che quindi hanno diciamo così non sembrano a prima vista diciamo direttamente collegati al Partito Comunista per far passare una narrazione su YouTube su Instagram su Twitter ehm molto in linea con con quella appunto del del Partito Comunista e questo è un tema secondo me molto importante e che si ricollega all'ultimo punto che tratto brevissimamente quello di sempre meno giornalisti occidentali che possono stare in Cina eh perché gli vengono negativisti a Mosca oltre che in Cina in questo momento diciamo ci sono zone nel mondo che in questo momento sono diciamo una verità off limit sostanzialmente e e questo pensiamo appunto esatto alla seconda al fatto che la seconda economia del mondo nel nell'anno duemila e ventitré oggi non solo Radio Radicale e vabbè ma anche giornali come il Guardian come il New York Times Radio Radicale in Cina non è amatissima a noi ci hanno negato il rischio e va bene ma diciamo l'hanno negato anche a tutta una serie di altri medi internazionali hanno cacciato i corrispondenti alcuni delle firme più importanti sulla Cina della stampa della stampa americana quella che i soldi quella che i soldi per fare per fare per fare inchieste e oggi siamo arrivati al punto che tanti medi internazionali devono seguire e devono raccontare la Cina prima si faceva da Hong Kong ormai neanche più da Hong Kong alcuni da Taiwan altri addirittura da Tokyo noi la facciamo di base da Bangkok e però esatto cioè tu calcola quindi io accennavo prima questa cosa in India che fa ancora più strano perché è stata praticamente messa sotto sopra quasi sigillata con vari scambi di cortesia su robe fiscali la BBC ovviamente in India dopo che la BBC britannica aveva mandato un documentario su Modi rispetto da dei fatti avvenuti quando lui era governatore di una particolare regione enorme ovviamente dell'India dove ci sarebbero state delle stragi etniche al danno delle minoranze musulmane per farvi capire che insomma da questo punto di vista tutta l'ASE anche le cosiddette grandi democrazie sono insomma in una situazione un po' problematica ecco Francesco sì 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 assolutamente ma appunto diciamo così l'India oggi molti si chiedono se possa ancora vantare davvero il titolo di più popolosa democrazia del mondo proprio per questo tipo di restrizioni su sulla stampa ma ti parlo per esempio di un paese dove 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 vivo che formalmente è una democrazia come la Thailandia dove c'è una legge sulla lesa mestà che prevede fino a 15 anni di galera per ogni capo di accusa appunto per critica nei confronti del Palazzo Reale e questo porta i giornalisti thai ovviamente a autocensurarsi su quello che è forse uno dei temi più interessanti rispetto alla politica della Thailandia cioè appunto la questione della monarchia un paese come la Cambogia che anche quello è formalmente una democrazia con una democrazia veramente autoritaria di cui molto ci siamo occupati anche con Matteo Angeli dove ormai non c'è non solo non c'è più opposizione non solo non c'è il Parlamento è un monocolore da cinque anni a questa parte ma dove ormai qualche settimana fa è stato chiuso anche praticamente l'ultimo media più o meno indipendente che era voice of democracy insomma la situazione non tira una buon'aria non tira non tira veramente una buon'aria per la libertà di informazione in Asia grazie Francesco arriviamo a Giorgio Alparazza appunto economista tra l'altro lo conosce bene insomma anche i temi di cui parliamo volevo un tuo parere rispetto a quello che hai 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 ascoltato spesso con te abbiamo parlato anche per altre ragioni di informazione in Europa in Franze russe ecco non so se su questo volevi dire qualcosa o c'è altro appunto cui volevi ricollegarti ma volevo dire una cosa il allora se tutti quanti avessero del tempo libero cioè in un mondo in cui nessuno fa altri lavori che non occuparsi di informazione l'informazione è quasi a disposizione completa cioè l'informazione è quasi completa cioè uno che non ha nient'altro da fare a tutti i soldi che gli servono si può abbonare a 32 mili allora ha tutto il tempo a disposizione a tutti i soldi che gli servono e sa parlare più lingue in questo mondo ideale più o meno tutte le informazioni sono a disposizione diciamo comunque si può fare un'idea anche dove le informazioni non sono disponibili ciascuno potrebbe farsi la propria dieta mediatica esattamente ecco e allora perché non è così è ovviamente perché la gente ha altro da fare che informarsi non ha disponibilità finanziarie infinite e sa una o due lingue di conseguenza si restringe il campo allora non essendo possibile è più fast food che slow food diciamo non essendo possibile passatemi il termine la democrazia diretta in cui tutti sanno tutto necessariamente si arriva alla democrazia delegata e chi sarebbero gli onorevoli di questa cosa qua i giornalisti e come funziona al meglio questa cosa qua se esiste un'informazione che è competitiva e libera no? alla fine no? però questa cosa e cioè si passa dalla democrazia ehm come posso dire diretta che è un'utopia alla democrazia delegata che è una realtà che per farla bene bisogna avere concorrenza e libertà di espressione si arriva dunque che è ma questa è l'offerta e la domanda e la domanda come si ricordava e eh probabilmente molto meno interessata salvo una parte dei litri quanto chi fa il nostro mestiere creda cioè la maggior parte non gli importa niente diciamo così per usare una metafora a loro interessano i grandi eroi un po' come nell'Iliade cioè non è che ti interessa sapere veramente che cosa sta facendo questo quello quell'altro paese così ma tu hai eh Achille hai Ettore hai questo hai quello cioè ti interessano queste robe qui eh Trump il miliardario porco eh eh il dittatore pazzo del cremlino ecco il dittatore pazzo del cremlino queste figure qui non è che a te interessa fare un'analisi della struttura della autocrazia russa cosa interessa sei persone tutti gli altri gli basta sapere che Putin eh come dire si è fidanzato con una ballerina è stato di salute così quindi è anche illusorio pensare chissà quale domanda ci possa mai essere allora la domanda interessante è quella di un'elita la maggior parte delle persone assiste ad Iliade e uno si deve accontentare perché altrimenti non c'è una spiegazione del perché piacciono così tanto i top show se non che sono Ettore Achille Patroclo e tutti quanti gli altri no? ecco allora messa in questi termini uno voglio dire alla fine sa benissimo che queste cose interessano una fetta modesta questa fetta modesta non ha una ha un'influenza maggiore del numero di persone da cui è composta molesta poi sono quelle che mainstream come si dice quello che poi influenza le sì però sì nei limiti perché simpatia e carisma non è detto però sì però per influenzare davvero tu devi usare un altro linguaggio sempre per tornare all'Iliade dell'antica Grecia tu devi usare la retorica per far passare la logica e quindi una volta che tu hai bisogno della retorica perché se no non ti da retta nessuno e la logica non vale niente se non ha una retorica finisce che in qualche misura devi andare a dire delle cose che a te personalmente magari ti farebbe diciamo ribrezzo dire perché è il modo che tu hai per qualcuno che ti dia retta allora il discorso è questo qui secondo me cioè bisogna avere diciamo così bisogna realisticamente accettare che si ha una democrazia delegata e non diretta con un diciamo così un elettorato che solo in parte è interessato a una democrazia delegata che fa bene il proprio mestiere punto e così col punto di Alfaras finale chiudiamo la matassa che come sempre era garbugliata ma abbiamo toccato tanti punti alcuni molto specifici ovviamente soprattutto sulla situazione italiana poi ci siamo allargati come al solito io ringrazio tutti i nostri ospiti Roberta Carlini Antonio Nicita Matteo Angeli Francesco Radicioni Giorgio Alfaras Fabio Pammolli l'appuntamento è la prossima settimana doppio bandolo e matassa sempre qui su Radio Radicale sempre qui con la Fondazione CER grazie alla prossima grazie a tutti